Una ricerca. Siamo qui nella nostra... Junior Club, giochiamo con Chiara. È il nuovo programma che ogni sera, a partire da oggi, andrà in onda sulla nostra emittente alle 19.45. La trasmissione condotta da Chiara Ippolito si svolge nei locali dell'omonima ludoteca ed ha lo scopo di intrattenere e divertire tutti i bambini e non solo dal salotto di casa. Faremo un po' di tutto, giocheremo con i bambini per i bambini, non solo con quelli che ci sono venuti a trovare al Junior Club, ma anche quelli che da casa ci seguiranno. Ci sarà uno spazio dedicato alle storie, quindi alle fiabe, perché è un'ibitudine che non deve andare persa, mentre nel ritmo frenetico quotidiano spesso non si ha tempo. Quindi noi la leggiamo, si può seguire qui da noi, ripeto, o anche da casa. Ci sarà spazio per il Teatrino delle Marionette, ancora per la Baby Dance. C'è anche un laboratorio di cucina un po' pasticcioso, però molto goloso. E poi c'è anche tante altre attività, una sorta di art attack, con il quale incolleremo, coloreremo, un po' di tutto, ma soprattutto è uno spazio proprio pensato per i bambini, ma anche per i genitori, proprio per voi. Così a casa potete ripetere quello che avete visto, giocando un po' con i vostri figli. Guardate, occorrono non più di cinque minuti, ma quello che si ottiene è veramente una meraviglia. La nostra emittente è l'unica in provincia che si è preoccupata di creare nel proprio palinsesto uno spazio dedicato ai più piccoli, con varie attività atte a stimolare la fantasia, la creatività e la curiosità del bambino. In una società ormai letteralmente assalita dal consumismo, soprattutto per quanto riguarda i nostri piccoli, Junior Club Giochiamo con Chiara offre un sano divertimento, nonché un allegro passatempo per i bambini. Dunque l'appuntamento è per questa sera, poco prima del TG. C'è anche il rosso. Giuliana me lo presti un attimo.